Ciao a tutte e tutti, Federica D'Andrea narra due storielle di Giuffà. Giuffà è la porta, Giuffà è la chioccia. Buono scolto. Volete sentire le storie di Giuffà? Giuffà faceva un sacco di scherzi stupidi, mettendo spesso in imbarazzo sua madre. Una volta la madre voleva andare a messa e disse a Giuffà, tirati dietro la porta Giuffà quando esci. Quando la madre fu a messa, Giuffà scardinò la porta e la caricò sulle spalle e la portò in chiesa sua madre e disse, ecco la porta madre. Un'altra volta la madre voleva andare di nuovo a messa. Giuffà disse, stai attento alla chioccia che non abbandoni la cova e dalle anche da mangiare. La madre poi uscì. Giuffà gli della crusca alla chioccia e intanto venne fame anche a lui. Siccome non trovò niente in casa, prese la chioccia, la ammazzò e la cucinò e se la mangiò tutta. Poi, perché le uova non diventassero fredde, ci si sedette sopra lui stesso. Tornata a casa, la madre, non vedendolo da nessuna parte, chiamò. Giuffà, Giuffà, dove sei? Gluc, gluc, rispose Giuffà. Hai dato da mangiare alla chioccia, Giuffà? Gluc, gluc, faceva Giuffà. La madre, alla fine, lo trovò seduto sulle uova. Giuffà, cosa fai là? Gluc, gluc, dov'è la chioccia? La chioccia l'ho mangiata, gluc, gluc, ma le uova vanno in malora, disgraziato. Per questo sto seduto sopra e le covo, rispose Giuffà.